Siccome oggi cremano papà, volevo sapere se nei ceneri ci rimane pure il legno della barra. Ma come ve l'ha immaginata la cremazione? Che fa? Il falò? Ti ricordi? Andavamo da lo stesso logopedista che devo da questa. Ma che è il testamento? Hai chiamato? Non so nemmeno se lo riconosco. È venuto anche tuo fratello. Come si chiama? Il paese dove dovete portare i ceneri? Ma dammi un passaggio, per favore. Ma se non hanno preso l'urna, dove sono andati questi? 32 ore di viaggio. Non te ne andare. Alizietta, cazzo! C'era tutto là dentro. C'era il computer, il passaporto, i documenti. Il computer? Se sono fregato di papà!